Il colonnello Claudio Rupertà è il neo comandante provinciale dei Carabinieri di Arezzo, da qualche giorno subentrato al colonnello Vincenzo Francese, che è stato trasferito al comando delle scuole dell'arma dei Carabinieri a Roma. Mi sembra una realtà vivibile, chiaramente si può migliorare tutto, però il livello di sicurezza mi sembra un livello buono. L'obiettivo nostro è lavorare insieme a tutte le altre istituzioni, compresi i giornalisti, per aumentare un po' la percezione di sicurezza. È chiaro che diminuire la distanza tra la sicurezza percepita e la sicurezza effettiva è fondamentale, perché se uno riesce a diminuire questo gap aumenta complessivamente la sicurezza. Se lo spaccio è un elemento di criticità cercheremo di lavorarci sicuramente. Ha detto tanta attenzione alle fasce più deboli. Sì, attenzione alle fasce più deboli, diciamo quelle vulnerabili, perciò la violenza contro le donne, i minori e gli anziani, queste tre fasce qui. E poi io aggiungerei anche la prospettiva di genere, che è un quarto elemento importante da non tralasciare. La metto a parte rispetto alla tutela delle fasce deboli perché è un mondo, perciò l'integrazione, quello che può essere eventuali aspetti razziali, o comunque di atteggiamenti particolari nei confronti degli stanieri, questi insomma vanno controllati, perché degli stranieri o comunque dei soggetti che magari appartengono a fasce particolari, che secondo me oggi vanno assolutamente controllati e attutelati. Nato a Roma nel 1971, nel settembre del 1992 è iniziato la carriera militare frequentando i corsi presso l'Accademia Militari di Modena e diventando sottotenente nel 1994. Al termine della formazione triennale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, laureato in giurisprudenza, nel 1997 è stato destinato al 6 Battaglione Carabinieri Toscana di Firenze come comandante di Plotone. Nel corso della carriera ha svolto molti incarichi, tra i Mila Romagna, Campagna e Lazio, è stato poi impegnato alla Scuola Ufficiali Carabinieri dal 2018 al settembre di quest'anno come comandante e insegnante dei corsi di formazione dei giovani ufficiali dell'arma, ultimo ma non per importanza la partecipazione del neocomandante provinciale alla missione internazionale del 2003 a Sarajevo per il mantenimento della pace.